Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'operazione Wildfire con Cluster Ciao Cla Ciao Quest'oggi stiamo facendo ragazzi l'ultima missione di quella del Phoenix Compound Che si chiama The Enemy of My Enemy Quindi banda alle ciance, ciance alle bande, entriamo e andiamo a dare un'occhiata Ok ragazzi ci siamo, finisce il riscaldamento, eccolo qua e si inizia Let's do this, abbiamo solo uno shot per farla ragazzi perché non c'è tempo Stai laggando? Non laggarmi Io prendo il FAMAS Ok E prendo la FF7 Dai io faccio il CT e tu fai il terro Ok Pronti? Ci siamo? Let's go Alla prima Ah oltretutto sai che da lì si può fare quella hard mode Oddio Oddio Ok siamo arrivati Non lo so Anche tu sei là, io sono qua Eh io ho paura Ok qua c'è una scala C'è una scala, sì esatto anche per me E anche una bomba Dobbiamo pressare la bomba Ok uno morto, una destra Minchia mi ha esplosato, mi ha esplosato la roba C'è un heavy, c'è un heavy Aspetta Aspetta Mi ha esplosato Oh dietro Minchia mi ha già lasciato a 19 Ho una bomba anch'io comunque Arriva un altro heavy dietro di te Un altro heavy dietro di te Dov'è? Cazzo Lì Aspetta l'incendio Merda, 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 merda Sono poco Aspetta Carico Arrivo Vai l'ho hittato tantissimo Buona Va bene Ok Porco Giuda Un aug Fantastico Ok Sono ancora due Sì Ed è esploso un Sì l'ho esplosato Stanno Ah li stai facendo esplodere tu ok Sì sì Vedete c'è qualche attaro qua vicino I pin I pin Minchia veramente i pin Qua dentro Qua niente Guarda l'ultimo Uh ammo qua Guardalo Qua vicino a camera Ok fantastico Carico Cerchiamo i pin ricordati eh Sono fast fast Esatto Ah lì è la porta dove continuiamo Ok Va bene Anche tu hai la bomba Sì anch'io ho la bomba Siamo ucciti con la bomba Non è mai successo nella storia dei CS Che ci ti avessero la bomba Um qua sopra Ok Qua c'è un pin Qua c'è un pin sicuro Non possiamo aprirla No Mi sa che è da dove torniamo indietro Ah questa è la seconda parte della missione qua Sì può essere Quello sopra Può essere da dove torniamo indietro sai Sì Ok Che scendo Let's go Niente pin qua quindi Nulla Madre nana Va bene Rip pins Ok Andiamo Non troviamo i pin ci servirà il puck Quante bruti I miei iscritti fanno delle battute orribili Questa è una di quelle che hanno fatto Sotto l'ultimo video Let's go Vabbè 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 Dove No Ok Se hai risultato un passo era il tuo Ok Era bugato Qua è clear Non è che ci rushano Qua sopra Se non mi faccio un pin E come ci arriviamo? C'è un medico Te lo penso io Ok Va bene Qua sopra Ah si sa cosa l'altra volta No perché Io sono salito qua da solo Ah è il carrezzo Che cazzo Oddio Che cazzo succede Guardi 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 E io tipo Dovevo salire qua sopra No 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 Non credo Eh Allora ce n'è uno lì dietro a destra Un altro Ah mi vado a asportare tipo Ok C'è una cappa lì Un altro Ok fantastico Prendi la cappa C'è una cappa pure qua Preso Let's do this Un altro in fondo Munizioni lì ci sono Ok Io non riesco a fare Ah ma questo Eh questo è il posto fuori di prima Esatto Sì sì ok Posso proprio far passare cancello Puoi vedere? Sì sì Dovremmo Ah dobbiamo aprirlo Sì veloce veloce Lo apro? È solo uno eh Sì sì Ah solo uno Vai No Non me lo fa aprire Non è vero Non è vero Non è vero Devo aprire Magari devo aspettare che ci sia il coso Probabile Ah si ferma Ok Quindi Oh cazzo Mi sa che ci ira Ah da lì sopra Da lì sopra Ecco Vai inizi ad andare di nuovo lì Ok Ah Ecco dov'è Uno sotto Uno sopra Ok Io sto controllando Che non mi lasci Nessuno ci sei? Sì sì Tanto non c'è nessuno spawnato 3 2 Aspetta 3 2 1 1 Via Vai Fatto Grande 3 spawnati Ok Ho trovato una stanza Va bene E di qua Posso scendere Perfetto Ok sono fuori Porta finta Clear Uno sopra Morto Ok morto Dove vuoi andare? Un heavy Un heavy Arriva Arriva Dov'è? Davanti proprio al camioncino Ok un altro Strafe E non ti prendo Esatto Sì sì Un altro Altri due qua Morti Ok Due dietro Due dietro Due dietro Ok Bravo Muori male cretino Quanto stai di HP? 32 Ma adesso mi curo Ok Correte adesso allora Qua c'era un pin l'altra volta Eh lo so Hai la munizione adesso Ok Quando Vabbè no Io voglio provare a salire di qua un attimo Giusto per vedere Ah dobbiamo plantare le bombe La prima Dobbiamo plantare due bombe Ok Ce la possiamo fare Vai Ce la possiamo farcela Let's do this Dove si piazzano? Ah qua B Oh Salve Al fanculo Che cazzo Da dove? Dietro Uno che mi spaga Morto Ok Guarda guarda Ok andiamo Uno in B e uno in A Allora io pianto Planto di qua Due Ok Ok Un altro heavy Non lo prendo Cazzo questo col mitra Eh la parte è la 9 Eh no Era al cuore E il tato È l'uomo da dietro Uh Ciao Ok Ok Planto Arrivano Mi sento Mi sento mamma Oh Arrivo arrivo Ok Dobbiamo aspetta Dobbiamo difendere Per prima che la bomba planta Uno sopra Morto Ti sento la K All'altro dopo la cazzo Deve essere pure No la prima l'abbiamo plantata Ok occhio Che cazzo vuoi coglione La prima l'abbiamo plantata credo Ah ah Dobbiamo aprire questo Vai Tre Due Uno Via Sono già quattro C'era un heavy C'era un heavy l'altra volta C'erano due Se non mi ricordo male Sì Ce n'è uno di là Ok Morto Non c'è a sto giro qua E ancora la bomba Uno in alto lì Grazie E uno ha tirato una molly Mi sparano Dietro 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 Tre Tre dietro Sul serio C'è uno flankato da dietro di terra Sì Ok ci siamo Dai Vinciamo Ho trovato una WP lì sopra ragazzi Quindi Oltre a main shot comunque Deve essere un altro heavy Faccio scappare i parigi Sì Riusciamo Sì E vinciamo Sopra Morto Dietro di noi Riricordo Sì Uno morto Un altro sopra Morto Un altro Un altro ancora Un altro ancora Altri due Morto Ok L'altra bomba da piazzare Dai piazzala La piazzo io La piazzo io Tieni mi coperto Quanto ce l'ho No non la posso troppare Ce l'ho Ce l'ho Ah no Ok Ce l'ho un altro allora Eccolo Ok Ottimo Ok Qua Apriamo E carico la vita aspetta Qua dentro Ti pin Allora qua dentro ho trovato delle ammo E va benissimo Dietro di noi Uno Due Sono ammo Ammo lo trovate Io prima mi stavo veramente messo male con le ammo della WP Quindi Non c'è niente 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 Andiamo 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 Apriamo Dai Tre Due Uno Via Una destra Otto Sopra sopra Bravo Heavy dietro al camion No 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 non mi spingere Mi sta spingendo avanti Che cazzo Un altro heavy Un altro heavy dietro Proprio qua davanti Aspetta L'ho preso in testa L'ho preso in testa L'altro Testa Ok Un altro ancora Preso in testa Preso Un altro heavy eh No L'ho lettatissimo L'ho lettatissimo I love Merda Andiamo a avvicinarmi Ok Madonna Che cazzo Ok Il cheat Ok Ok C'è tutto Arriva arriva Sì Oh desusantissimo Veramente La sei vista malissimo Sì Tanto Tanto male Ora Qua c'era un pene una volta Sì Non c'era Non c'è adesso Sono andato a guardare Ci sono Ammo se lo vuoi qua Dove? Qua dove sono io Seguimi Ok Ti sento Ammo E prendo queste Sì queste qua Ok Vediamo se qua ce ne sono altre cose No Niente Niente Io Ragazzi Pin ne abbiamo trovato uno Ma secondo me ne abbiamo già persi Non ci può andare Niente Di qua dato Eh le facciamo per i casti nostri dopo Eh sì Per forza Di qua dato Pronto 3 2 1 C'erano tantissimi heavy prima Quindi occhio Sì È esploso tutto Eh le nostre bombe Sì All'acvarra Ok Ate 4 sono sponati Non li vedo Eh da qua Uno Morto Uno a destra No Sono stato Uno sì Sì dietro di noi Dietro di noi Dietro di noi Ok Mi uso un mad shot Grazie Va bene Dietro un altro Madonna Ottimo Un altro Carico Ok ci sono Altre due Ok Andiamo andiamo Un altro Seguiamo il coso Seguiamo il coso Dietro Preso Seguiamo il coso Seguiamo il coso Continueranno ad arrivare Te lo dico io Oh va bene La sopra c'era Da sopra c'era C'erano delle ammo Sì Se ci sono ancora Vatela a prendere Vado a prendere io Sì sì Va bene Presto c'ho anche dei medkits C'ho anche una WP Lo prendo Prendilo Prendilo Dietro Un altro Altre due Dove? Dietro Ci stanno inseguendo Di base stiamo scappando E loro ci stanno inseguendo Aia Mi ha fatto un HS Dove è corretto Merda Eccolo Madonna mia Se è lento Sto coso Scusa Vuoi mettere La seconda Almeno Dai Dietro Io non metto nessuno Oh Ok Mi l'ho scoppiata Yeeeh Alla Agbar Ok Dai 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 che ce la facciamo Vai 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 Che finita cazzo Forse Cazzo siamo insidio Tipo Boh Non lo so dove siamo Ah Ma don't ring Ah Ah Ci siamo Ci siamo Qua mi dice sei in una zona Di stazione dei ostaggi ma Eh Non è giusto Destra 15 secondi 15 secondi Dai Non resistere Mi lasciano tutti adesso What L'ho risposto Ok Adesso Arriva arriva a 15 secondi Dai 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 che ce la facciamo Dai Feloce Mi ha sparato Non so da dove Credo a sinistra Eh Ce l'abbiamo fatta Ci siamo forti Eh addirittura 24.000 punti Signori Senza pin Senza pin Perché ne abbiamo trovati solo uno E poi c'è un po' di danno anche Yes Comunque Cioè con le pistole Questa è difficile Ci sono troppi heavy Troppi troppi heavy Ne abbiamo Tipo sei Era quasi impossibile Quindi ragazzi Questa era l'ultima Delle missioni Del Gemini Con cluster Grazie Cla Ne abbiamo fatto un'altra Finalmente Siamo fighi Siamo forti Cazzo si Yeah Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait